Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione del Fatto del Giorno. Continuerà ancora nei prossimi giorni, ma ieri è stato l'ultimo giorno di summit tra i leader mondiali alla COP26 di Glasgow. Nei due giorni in Scozia si è discusso di molti temi, il primo dei quali quello della deforestazione. I leader mondiali infatti si sono accordati per porre fine alla deforestazione entro il 2030. Come possiamo vedere ci sarà un impegno di 19,2 miliardi investiti. Il documento è stato sottoscritto dai paesi che occupano circa l'80% delle foreste nel mondo. Nell'accordo poi rientrano anche i 18 miliardi di euro di fondi pubblici e privati per recuperare le foreste danneggiate. Altro tema molto significativo è stato quello della riduzione del metano. Infatti più di 100 nazioni hanno promesso di tagliare del 30% le emissioni di metano entro la fine del 2030. Come possiamo vedere sono stati circa 100 i paesi firmatari e tra i paesi però che hanno raggiunto l'accordo non figurano Cina, India e Russia che sono tra i primi 5 emettitori. Poi si è parlato anche di emissioni zero, si è parlato anche appunto dell'obiettivo di emissioni zero entro il 2050. Stati Uniti, Unione Europea e i paesi più sviluppati hanno confermato gli impegni già presi nella COP26 di Parigi. L'India però attraverso il suo premier Modi ha fatto sapere che il paese non raggiungerà il traguardo di emissioni zero prima del 2070. Anche Russia e Cina sono i paesi che appunto non rispetteranno il patto, in particolare Russia e Cina hanno posticipato il traguardo di emissioni zero al 2060. È tutto, vi diamo appuntamento alla prossima edizione del Fatto del Giorno. Grazie a tutti.